non mi trovo in una barca abbandonato guardate wow wow fa paura lì ci sono anche delle cose sembra che qualcuno dormi qui la notte ragazzi ho i brividi bisogna prestare molta attenzione dove si cammina wow sto per entrare ragazzi anche se ho un po paura sentite come rimbomba tutto wow ragazzi abbiamo avuto la conferma qua c'è davvero qualcuno meglio andare qua molto probabilmente ci dorme qualcuno nuova tappa ragazzi mi trovo a popcorn beach sapete dove si chiama popcorn beach? perché ci sono i sassolini che assomigliano davvero a dei popcorn ed è tutta la spiaggia così è un petacolo questa città Fuerteventura è incredibile abbiamo una fottuta sala giochi tutta per noi qui in hotel adesso ci diletteremo con un po con un po di veliardo che in espania è Fuerteventura per una grande avventura dopo tutto oh con la pelota è la pelota è la pelota è il campeone wow incredibile che è grande sequina mediana mediana ci puoi dare questa vale vale è buona a Fuerteventura non tutti lo sanno ma si possono trovare i cammelli e il deserto che andrò a esplorare più tardi sei pronto c'è solo una persona ad avere i cammelli sull'isola ed è lui è un tipo davvero particolare arriva dalla germania e ci ha raccontato un po della sua vita letteralmente vive con loro dorme in una tenda con loro e pensate che ha fatto il cammino di santiago durato tre mesi sempre con loro lui vive la vita alla giornata e dice di aver intrapreso questo stile di vita dopo essere tornato dalla guerra una persona squisita che ama stare coi suoi animali e che mi ha insegnato tanto anche solo con una chiacchierata questo è un bel momento davvero un bel momento un besito che tenere è un bel momento che dicena laamen an 뉴스 anche un buongiorno tra le ore tra che i c обocchi èмотрate, dove è il decreto tenere Ok è capo più facile perci messia perché è fantastico wow fantastico questo è il deserto di fuerteventura l'unico deserto in europa c'è una pace incredibile guardate ragazzi non c'è anima viva è tutta sabbia scendere bellissimo ma risalire poi era proprio una rottura di palle anche come si spacca il culo di pancia la sabbia in bocca vai nel prossimo video esplorerò il deserto vi lascio un piccolo spoiler vi dico solo che mi sono perso